cari spettatori buonasera bentrovati a questa edizione del tg question time oggi affrontiamo siamo sotto la data della festa della donna e vogliamo proprio parlare di questa tematica lo abbiamo spesso fatto in altri periodi dell'anno perché è giusto non fermarsi ovviamente a parlare di donne soltanto l'otto marzo e lo abbiamo fatto anche con toni piuttosto negativi in relazione episodi di cronaca nera che continuano a sussistere lo abbiamo fatto lanciando gli appelli al numero di telefono 15 22 a contattare questo numero per denunciare vessazioni violenze spesso nelle proprie case nelle mura domestiche questo lo abbiamo fatto perché è giusto parlare di donne è giusto parlare di pari opportunità e oggi siamo a parlare con una donna che è vice sindaco al comune di novara marina chiarelli nostra ospite buonasera buonasera a tutti grazie per l'invito grazie a lei è giusto parlare con una donna di iniziative per le donne il suo assessorato è l'assessorato al commercio ed è stato organizzato una bella iniziativa che non si ferma l'otto marzo ma prosegue per ben un mese di che cosa si tratta l'iniziativa è taxi in rosa e non l'abbiamo limitata soltanto alla giornata dell'otto marzo proprio per dare un significato un pochino più importante e l'augurio che poi magari invece che da un iniziativa singola possa diventare proprio una prassi è un connubio tra l'assessorato al commercio soroptimist club che è un club che si da sempre si occupa di donne ed è formato da donne e dalle sigle taxi che hanno aderito in realtà tutte quelle di novara e prevede una scontistica sulle corse utilizzate da donne sole o donne con bambini in tutti gli orari quindi sia diurni sia notturni che ha un duplice scopo da un lato favorire anche l'utilizzo del taxi come mezzo di locomozione particolarmente sicuro e in secondo luogo renderlo più accessibile proprio alle donne che magari in un re notturno tornano dalle stazioni o viaggiano da sole in modo che possano in qualche modo essere facilitate nell'accesso a questa prassi abbiamo anche stilato un protocollo che prevede magari alcune alcune pratiche diciamo e degli accorgimenti particolari per esempio il tassista che attende che la donna entri nel cancello di casa o nel portone questo proprio per garantire una maggiore sicurezza per non farla sentire sola nei momenti in cui potrebbe essere più vulnerabile anche perché recenti casi ne ricordo quello di roma di quella povera signora che è stata aggredita e uccisa all'interno addirittura di un locale pubblico portano a pensare che bisogna fare rete e appunto che bisogna sentirsi in qualche modo protetti all'interno di una rete sociale che è fatto da tutti noi. Io infatti dicevo precedentemente che vengono spesso lanciati gli appelli ovviamente a contattare il 1522 e il telefono proprio per l'emergenza un telefono che permette a molte e ha permesso a molte donne di uscire da uno stato di vessazione proprio all'interno delle mura domestiche come dicevamo ma purtroppo la violenza si consuma ovunque e spesso ai danni proprio delle donne quindi ottimo queste iniziative. È stata protratta dunque per un mese ma dovesse avere riscontro ci sono buone possibilità di portarla avanti? Sicuramente ne parleremo con i tassisti per capire se questa questa prassi novarese può diventare magari una prassi stabile vedremo in base anche a quelle che sono le loro esigenze chiaramente di sostenibilità. Novara è una città in cui abbiamo un numero di tassisti comunque non esageratamente ampio sicuramente è una città particolare e di conseguenza insomma bisogna contemperare un po' le esigenze di tutti. Però anche dai colloqui che ho avuto con loro mi si diceva che il numero di donne che accede al servizio taxi è sempre maggiore e quindi questo potrebbe essere un buon punto di incontro. A favore proprio perché questa iniziativa spinge ulteriormente a utilizzare il taxi. E quindi il beneficio deve essere reciproco. Reciproco ovviamente perché si tratta pur sempre di un'attività lavorativa. Senta parliamo ovviamente di iniziative ce ne sono tante altre organizzate dal comune di Novara, dalla provincia di Novara e da varie associazioni sul territorio. Ne abbiamo già parlato venerdì scorso appunto con il sindaco di Novara. Per quanto riguarda però l'universo femminile io approfitto del fatto di averla ospite perché mi piacerebbe proprio approfondire questo argomento. Cioè la nostra società, quella di oggi, vista da una donna come lei che è donna, è impegnata in politica attivamente, tant'è che è vice sindaco, è stata eletta appunto alle recenti amministrative con tanti voti, quindi è apprezzata sul nostro territorio, ma è anche mamma e lavoratrice con la sua attività professionale di avvocato. Dunque lei come vede oggi e come si sente? Anche a camminare semplicemente per strada, magari finito un convegno in ore notturne. Cioè una donna si sente davvero più vulnerabile? Allora io ho la fortuna sfortuna di poter vedere l'universo donna da più punti di vista e magari anche non solo dal mio. Nel senso che è chiaro che la mia attività di avvocato, divorzista, ha fatto sì che io abbia ricevuto le confidenze e i racconti di tante donne, ho anche lavorato come volontaria al centro antiviolenza della provincia, l'abbiamo fatto sostanzialmente tutti gli avvocati donna di Novala, si sono messe a disposizione. E quindi si sentono i racconti che poi hanno anche dei fil rouge comuni, nel senso che molto spesso, questo precedentemente forse, alcuni episodi di sottomissione, chiamiamoli così, derivavano anche da una sottomissione economica. C'è da dire che invece oggi la donna è avanzata e di conseguenza sono residuali i casi in cui vi è sottomissione economica, tant'è che la violenza si manifesta forse ancora di più in ambienti in cui la donna è autonoma. Cioè questa autonomia della donna non sempre viene vista in maniera positiva e propositiva dal partner o dalle persone che le circuitano intorno, perché la vogliono comunque relegare in un ruolo, in un ruolo ben preciso, che può essere il ruolo domestico, il ruolo dell'accudimento dei figli e anzi si ha quasi un preconcetto nei confronti della donna che vuole lavorare troppo. Ancora oggi? Stiamo parlando del 2023, oggi abbiamo ancora questa visione. Abbiamo ancora questa visione che è una visione non solo maschile ma anche femminile, cioè io continuo a dire che noi donne dovremmo fare rete tra noi donne e che la prima forma di solidarietà è interna tra di noi, quindi senza giudizio ma con comprensione dell'altra. C'è la donna madre, la donna non madre, la donna lavoratrice, la donna più o meno lavoratrice dell'altra, la donna che si dedica alla famiglia più o meno. È chiaro che l'incastro non è semplice e non è semplice fare della qualità in ciò che si fa, cioè avere rapporti di qualità familiare, avere rapporti di qualità con i figli, avere rapporti di qualità all'interno del lavoro, perché si rischia di perdere qualche pezzo. Quindi sicuramente quello che io auspico, anche perché oggi noi siamo una nazione che è diventata veramente europea, perché abbiamo una premier donna. Non solo abbiamo una premier donna, abbiamo visto anche le recenti primarie del PD che hanno visto affermarsi una donna, donne diverse tra di loro, molto diverse tra di loro, ma significative. Io veramente mi auguro che questo possa fare la differenza, cioè che si portino quelle istanze di sopravvivenza della donna e che sono istanze che devono aiutarla e metterla in condizione di poter operare in tutti i campi della propria vita. E quindi è chiaro che una donna con famiglia che ha una libera professione o una donna con famiglia che fa politica, nel mio caso addirittura tutti e due, deve avere quegli strumenti che le permettono di farlo. Quindi quegli strumenti sono sicuramente la scuola, sono sicuramente degli ausili nell'assolvere ai bambini, piuttosto che a una serie di situazioni che possono magari... Di servizi che quindi la società deve dare. Di servizi che la società deve dare e magari, prevedendo che ne so, sgravi fiscali, perché poi ogni situazione è un pochino a sé, per esempio per babysitter, durante il Covid era stato fatto il bonus, forse prima del bonus babysitter, eccetera. Ecco, quelli sono strumenti che favoriscono intanto il lavoro e inoltre proprio una rete a sostegno dell'attività professionale, perché poi è quella che rende liberi. Ora io non vorrei fare un'affermazione troppo femminista, ma era una serie televisiva che erano dai capelli rossi ed mi era rimasta impressa una frase che la nonna le diceva, le diceva nella vita potrei trovare l'amore, potrei trovare l'uomo che si occuperà di te, eccetera. Oppure potrei avere i soldi per comprarti il tuo abito da sposa che preferisci. Ecco, questo è secondo me anche il senso del voler fare da sola, del mettersi in discussione e del affermarsi con le proprie forze e non vedo perché questo debba essere negato in funzione del fatto che bisogna essere relegati a un preciso ruolo. Ognuno sceglie chi vuole essere e porta avanti la sua strada, però certamente deve avere le possibilità di farlo. Una pari visione tra uomo e donna all'interno della propria casa, quindi nell'accudire, ma anche semplicemente fare la spesa, accudire i figli, quindi dalle attività base, basilari della nostra quotidianità fino ad arrivare all'affermazione nel mondo del lavoro. Ora noi non abbiamo la palla di cristallo, però mi piacerebbe chiederle come vede un'ulteriore evoluzione del ruolo della donna nella nostra società. Allora neanche io ho la sfera di cristallo e quindi non posso prevedere oggi cosa succederà dopo. Ritengo però che complice anche, proprio notizia di ieri, della Presidente di Corte di Cassazione per la prima volta donne in Italia, si stanno aprendo comunque sicuramente alle donne delle opportunità che oggi sembrano delle eccezioni, sembrano quasi delle novità e secondo me domani saranno sostanzialmente la normalità. Perché nemmeno io e te potevamo prevedere a 15 anni cosa sarebbe stato il mondo di oggi con i social, quanto avrebbero influito nella nostra vita, quanto è cambiato, che opportunità di lavoro ci avrebbe offerto la società o di realizzazione personale. E quindi è chiaro che dal mio punto di vista su alcune situazioni che magari non riguardano prettamente la donna potrebbe anche esserci un ritorno al passato, cioè un ritorno a quel nucleo centrale della famiglia che in questo momento io vedo molto disgregato e disgregabile, cioè è sottoposto a una serie di attacchi che secondo me non lo tutelano abbastanza. Ricordiamoci che la famiglia è il nucleo centrale della società, cioè vi è sempre stata dalla preistoria, cioè il nucleo principale è il nucleo familiare. Oggi il nucleo familiare è in qualche modo sotto attacco per una serie infinita di motivi. Faccio una digressione che magari può in qualche modo essere correlata, no? Per esempio anche con riguardo proprio ai figli, no? Abbiamo assistito a recenti polemiche sul fatto che la premiera abbia portato la bambina con sé o che alcuni personaggi televisivi abbiano i bambini dietro le quinte piuttosto che. Ecco io su questo penso che in realtà sia proprio quella sofferenza di cui parlavo prima, cioè quel voler, quel dover dare in qualche modo e far partecipi. Io penso proprio questo, che in realtà i bambini non debbano essere tenuti estranei rispetto a quella che è la nostra attività lavorativa di mamme, ma debbano essere resi molto partecipi di ciò che le mamme fanno, di come lo fanno, di come impiegano il proprio tempo, in modo tale che si possa in qualche modo ovviare a quel senso di colpa reciproco. Sono anche esempi di asili all'interno delle strutture lavorative che vengono messi a disposizione, proprio dalle proprie, dall'azienda, per cui la mamma nel momento di pausa riesce ad andare a trovare il figlio, quindi a vederlo, anche magari pranzare insieme, quindi questo comunque può essere anche un indice di questa situazione, ma soprattutto il fatto che i bambini imparano dall'esempio e quindi vedendo che cosa fanno i propri genitori imparano proprio da quell'esempio lì, cioè questa esclusione dalla vita lavorativa dei genitori, dei bambini, a mio avviso non è sempre corretta, cioè ci deve essere una forma di inclusione e di comprensione reciproca. Può essere proprio un cambiamento dei nostri tempi, quindi anche queste sono dinamiche che fino a poco tempo fa non erano previste. Diciamo che c'è stato qualche avvisaglia, come dicevo, all'estero, ma probabilmente diventerà anche questa sempre più parte della nostra vita quotidiana, lavorativa, quindi familiare, quindi probabilmente ci saranno meno paletti, quindi sarà sempre tutto più miscelato, mescolato, perlomeno più a contatto, meno barriere e più vita insieme in questo caso, quindi potrebbe essere una giusta e una corretta visione e magari se quei due paesi che da un anno stanno combattendo avessero avuto due leader donne, probabilmente non staremmo qui oggi a temere una terza guerra mondiale, ma questo non vorrei cadere proprio nella banalità delle cose però. Alle volte viene in mente se fosse stato così cosa sarebbe successo. Senza essere retorici è chiaro che le donne sanno essere molto belligeranti, però sicuramente hanno sviluppato quell'arte diplomatica all'interno delle mura domestiche che rende la risoluzione del conflitto modulata, se credo altri schemi. Molto più malleabile, noi alle volte ci impuntiamo e da lì non ci si muove, quindi speriamo veramente anche su questo fronte di avere notizie positive il prima possibile. Io la ringrazio per questa visione più ampia proprio del ruolo femminile nella nostra società e ci rivedremo prossimamente per nuove iniziative. Grazie a voi, buona giornata. Grazie e intanto comunque auguri anticipatamente per la festa della donna. Noi ci rivedremo venerdì prossimo, sempre con il TG di Question Time. Arrivederci.